rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di nico in game ci troviamo attualmente all'interno del circolo dei maghi dobbiamo incontrare irving il primo incantatore la volta scorsa abbiamo affrontato la nostra prova all'interno dell'oblio combattendo anche il demone quindi ora non ci resta che andare a parlare bastone della colita piglia piglia noi ci guardiamo un po intorno ragazzi secondo piano dormitorio dormitorio degli apprendisti sotterrani vabbè è tutto un cerchio qua ma sapete che forse abbiamo altri punti talento da spendere è trovato un oggetto chiuso puoi aprire la serattura con la tua abilità e se la tua abilità è sufficientemente alta oppure dobbiamo trovare la chiave vabbè questa è la biblioteca oh andateci piano eh allora vabbè ci siamo questo lo studio lo studio di irving sta qua ok e in fondo al corridoio si ci siamo vabbiamo 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 ho vabbiamo 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 Il risultato di darkspawn si cresce nel sud, abbiamo bisogno di tutta la scelta che possiamo ottenere. Ovviamente non. Vi ringrazio di congratularevi su un successo ordeo successivo. Grazie Primo Incantatore, grazie. Grazie. Beh, sono lieta di essere parte del circolo. Ma infatti non ne ho parlato con nessuno. Posso lasciare la torre? Non ancora. Ok. Ok. scuola zaron di east side of this floor close to the library if you both excuse me a half matters to discuss with grego vabbè seguimi dai t ti scorto alla tua stanza non so dove sia prodotto vicino alla biblioteca quindi questo lo prendo cosa sta succedendo fuori dalla torre gli apprendisti non è concesso uscire sapete avete mai visto qualcuno usare la magia del sangue? beh sì la magia del sangue è molto pericolosa però mi piacerebbe avere quel potere è ingannevole va bene dai prendo concedo ho altro da fare ce li becchiamo in giro qui c'è chi è questo? ah c'ho di nuovo sì mi ricordo mi sembrato un po' teso io in realtà io in realtà volevo andare in biblioteca ma va bene che succede? ok ma è un'iniziata quindi puoi vedere quindi puoi vedere perché vogliamo mantenermi un segreto Lily ha stato dato alla chantry non è permesso di avere relazioni io non lo dirò beh io non lo dirò a nessuno state tranquilli però state infrangendo le regole allora di cosa si tratta? ah un adepto della calma a me mi pare un po' troppo agitato questo qui eh quindi non credo che faccia per lui sì ma tutto questo cosa ha a che fare con me? ho bisogno di escapare ho bisogno di distruggere la mia felacchia senza questo non mi può trattare abbiamo bisogno di vostra scelta Lily e io non possiamo fare questo proprio diamo la tua scelta che ti aiuteranno e ci diciamo cosa vogliamo che dite li aiutiamo a fuggire? c'è il rischio che ci cacciamo nei guai eh? però sono curioso dai mettiamo il vostro piano c'è state dicendo che dovrei sfondarla? vabbè dai vado al magazzino a prendere la verga quindi tutto il lavoro sporco tocca a me giusto? si 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 ascolta sei solo d'intraggio faccio da solo allora recupera una verga del fuoco dal magazzino prima di fare danni salviamo mi occorre una verga vediamo se riusciamo a convincerlo beh mi occorre per le mie ricerche perché non potete darmela subito? è la procedura è la procedura ok minchia che inquietante eccolo qui un incandato ranzo zitti potete fermare questo modulo sto studiando il fuoco proposta? proposta? allora quelle cose si complicano beh ho potremmo persuaderlo vedete che fasto ce l'ho firma per una piccola in la sede delle tracce del templo che patrulla la biblioteca fa' questo per un vecchio, non ti vuoi? il basto mi ha sempre dato l'occhio eh grazie tu sarai suoi cammini ora ok zitti ce l'abbiamo fatta Sì 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 ciao ciao Ecco il modulo firmato Tutto a posto o meno male Ok Vedete che minchia si passa Ah eccoli Sentite ho recuperato la verga Ok andiamo Al deposito Ah mi stanno seguendo perfetto Non so passiamo da qua Scusate Ok andiamo a vedere No invece è qui Ok a posto Eh ma come facciamo ad attraversarla Dunque cosa devo fare Ho sentito qualcosa Usiamo la verga Beh siamo dentro Ah ok qui dobbiamo usarla Usa la verga sulla serratura Proviamo di nuovo Lì 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 Non c'è qualcosa di certo. Non c'è nulla. Non c'è nulla, nulla funziona. Questi potevano in ponte, questo deve essere i templari' lavoro. Ci negate ogni magia in questo area. Devo capire. Perché Gregor e Irving usano semplici le chievi per questa porta? Perché le chievi di magia non funzionano. Come si tratta di maggiore di qualcosa, rende i loro potenti semplicemente valore? E allora, siamo finiti. Non possiamo andare in. Ma deve pure esserci un altro ingresso, no? Abbiamo qualche altra scelta? Proviamoci, ormai siamo in ballo. Ehm... Proviamoci, abbiamo spostato abbastanza tempo. Non mi dimentico, abbiamo venuto troppo lontano. Oh, questo non è buono. Chi c'è? Oh merda. Oh merda. Ma io una volta ragazzi avevo un cavolo di bastone Perché non ce l'ho più Non ce l'ho più documenti privati sembra non ci sia altro qua e è iniziato. Ehm, ehm Cavolo, perché sono a terra? Paglia tutto che è sta merda cacciatore oscuro non 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 ok ok non 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 I shall do it. Ho recuperato un impasto curativo. Questi oggetti possono essere utilizzati per ripristinare istantaneamente parte della salute. Ok. Vabbè per il momento non ci serve ragazzi. Adesso andiamo avanti poi vediamo un po' tutto quello che abbiamo raccattato. Quello che stiamo attualmente raccogliendo. Scusate ragazzi ma ci siamo. Diamole qualcosa che ne so un pugnare. Anche a lui. Ambuletto. Anello. Arco. Dopo usare l'arco? No. Pregnate la spada. Questo ragazzo lo mettiamo qua. E il mana lo mettiamo qua. Le boccette di mana. Ok. 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 Oh, you're such a fast! I... I think I broke something. Ok. Attenzione! Why don't you just die? We'll meet another way for the last opportunity. Let's explore the repository. Ah no, ci siamo già entrate, ok. Eh, mi chiedo che rappresenti questa statua. Greetings. Mekker's breath, did you just say something? I am the essence and spirit of Eleni Zenovia, once consort and advisor to Archon Valerius. Prophecy, my crime. Curse to stone for foretelling the fall of my lord's house. Di cosa stai parlando? Forever shall you stand on the threshold of my proud fortress, he said, and tell your lies to all who pass. But my lord found death at the hands of his enemies, and his once proud fortress crumbled to dust, as I've foretold. A Tevinter statue? Don't listen to it. The Tevinter lords dabbleed in many forbidden odds. This is a wicked thing. Beh, deve essere molto antico. It must have been here for years, look at the dust. I feel a little sorry for it. Her. Weep not for me, child. Stone they made me and stone I am. Eternal and unfeeling. And I shall endure till the maker returns to light their fires again. Vi serve aiuto? No help can be given me, for this is my doom and my destiny. Ambiguous rubbish, it could mean anything. I can do it too. The sun grows dark, but low here comes the dawn. Stop talking to it. Please, both of you. Vabbè, comunque... Lily ha ragione, dai. Come on, Jowen. Let's go. Abbiamo altro da fare. Wow, questa old wall è about to come down in ogni momento. What do you think this does? Why does the circle keep so many Tevinter artifacts in storage? It's history, Lily. And it's fascinating. Ma tuttavia non saprei dire a cosa serve. I've seen pictures of things like this. They amplify any spell cast into them. I bet we could use this to break into the phylactery chamber. Potrebbe funzionare. See where the mortar might be decaying behind that bookcase? Let's take a closer look. Vediamo. Però prima fammi... Fammi ultimare il giro di questa stanza. Che se... Non penso ci sia altro, eh. E noi siamo entrati da qui. Sì. Beh, aiutatemi. Come a farla fare. Now, come and walk. Then we have to do this, where are we? Now, we just need to find a way to get through this wall. All the way we can do this... And then we can do this. And we can do that. Madonna, anche meno, eh. Abbiamo fatto un bel po' di casino qua. Salva che è meglio che qui. Sono un cazzo. Andiamo a un'occhiata in giro prima. Ecco, infatti. Porca puttana! Andiamo a guardare le pezzi suonare! E io faccio. E io faccio. Questa è la mia philactery! Hai trovato! Non mi credo che questa piccola vile sta tra me e la libertà! È così fagile, è così facile solo per farlo. Per finire la mia perdita. E io sono libera! Eeeh... E infatti... Vabbè dai, andiamocene. Un po' strana come cosa. Non credete? Si mette male. Si mette male. Gregor! Un'initiate conspiringi con un'Bloodmage. Mi sono disapoiato. Si sembra scoperta, ma completamente in control of her own mind. Non un'estrall del'Bloodmage, allora. Tu è vero, Erwin. Un'initiate ha uscoltato. La Chantra non farà questo nonpunicato. E questo. Un'initiate, che è già fluendo le regole del cerchio. Mi sono disapoiato. E tu... Tu potessi avermi detto cosa avessi di questo plan, e tu non. Tu non ti importa, i magi. Tu solo vedi alle Chantra, ogni rinforzo. Eeeeeh... Forse è meglio non peggiorare la situazione. Certo. Come il Comandante dei Templari qui assemblati, sento questo Mage di Molo a morte. Eh no, esagerati, dai. E la Chantra ha scornato la Chantra e le sue vado. Passatele ad Aenar. No. 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 Ma anche lei non lo sapeva. Ehm, non. Non ho preso niente. Ehm, è Joe One quello che volete, non me. Che cazzo mi urli. Ho capito, ma stai calmo perché altrimenti ti spacco il bastone in testa. Oh, ecco, il custode grigio. Ehm, io sono anche ricruito per i Grey Wardens. Irving ha parlato molto di questo mago, e io voglio che sia iniziato a tutti i giorni. Duncan, questa mago ha assistito la Malefica, e show no lack of regard for the Circle's rules. She is a danger. To all of us. It is a rare person who risks all for a friend in need. I stand by my decision. I will recruit this mage. Beh, ho sempre sognato di dimostrare il mio valore di maga. Ma vai a coliccarti. Ma che cazzo. Cosa mi a te? Ehm, dunque diventerò un custode grigio? Perfetto. Grazie di tutto, primo incantatore. Come. Grazie di tutto. Grazie di tutto. Grazie di tutto. Ma tutti siamo qui. Questa scuola deve essere fermata. Qui e ora. Se si spiega all'inizio, Ferelden dovrà falle. Ho, duncan. King Caelan! Non ci ho aspettato. Un saluto di sottotitoli? Benvenuti. Stavo iniziando a preoccupare che ti avvicinare tutto il divertimento. Non se potessi aiutare, sua majestà. Poi avrò il Duncan forte a me in battaglia, dopo tutto. Glorioso. L'altro warden mi ha detto che ti avessi trovato un recruttore promosso. Io credo che questa è lei? Sono io, sì. Mi chiamo Selina, vostra maestà. Sottotitoli. I warden grei sono desperati per aiutare i loro numeri. E io, per uno, sono felice di aiutare. Entendo che ti avvicinare da un circolo di magi. Mi credo che ti abbiano alcuni spiagli per aiutare nella battaglia. Farò del mio meglio, naturalmente. Eccellente. Abbiamo due pochi magi qui. L'altro è sempre benvenuto. Mi permette di essere il primo a ti invitare a Ostagar. I warden sottotitoli con te in loro rank. Ok. Scusate di cercare questo, ma dovrei tornare al mio tento. Loghain attenzione per mi abbracciare con le sue strategie. Il tuo amico senta i saluti e ti ricorda che le forze di Redcliffe potrebbero essere qui in meno di una settimana. Ehmann vuole andare alla gloria. Abbiamo trattato tre battaglie contro questi monstri e domani non dovrebbe essere diversa. Non avevo capito che le cose andassero tanto bene. E' un flagello, un flagello. E' un flagello. E' un flagello. E' un flagello. E' un flagello, un flagello. E' un flagello che sta trattando con i faioli di grave warden contro il Dio dottato. Ma credo che questo lo dovrebbe fare. Deve andare prima di fare una partita di Loghain. Grazie, grave warden. Eppure non sembrate molto convinto. Ehm... Eh scusa ma sembra stimare molto il costo di Grigi. Cosa volete che faccia? Sia libera per esplorare il camp come volete. Alla cosa chiedo è che non lo lasciate per il tempo. E' un altro Grey Warden nel camp con il nome di Alistair. E' una nuova missione. Ostagar, ragazzi. Ehm... Dobbiamo unirci ai costo di Grigi ma ci siamo praticamente. E adesso possiamo esplorare con tutta calma questa nuova zona. Abbiamo anche livellato però direi di fermarci subito qui con questo episodio perché si è fatta già parecchio lunghetta. Ehm... Spenderemo i punti che abbiamo a disposizione al prossimo episodio e inizieremo ad esplorare questo bel posto. Ma come sempre fatemi sperare la vostra. Ascite like, condividete, iscrivetevi al canale. Sempre se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.